Musica Prosegue a Biceglie la mobilitazione dei cittadini e di diverse associazioni ambientaliste non per tentare di fermare l'abbattimento degli alberi di Pino in via di Vittorio nel quartiere San Pietro. Oltre un centinaio di cittadini e di attivisti appartenenti alle realtà bicegliesi, Libera il Futuro, Pronatura, Legambiente e Italia Nostra, oltre al Comitato per la difesa del verde pubblico di Molfetta, hanno aderito sabato scorso all'iniziativa denominata Piantiamola, chiedendo a gran voce l'amministrazione comunale presente nell'occasione con l'assessore all'ambiente di Pinto e l'assessore alle manutenzioni Monterisi di poter contemplare soluzioni alternative all'abbattimento degli alberi. Lo scorso sabato ci siamo incontrati con tantissimi cittadini, con tante associazioni per poter chiedere all'amministrazione comunale di poter fermarsi un attimo, di poter interrompere le valutazioni su questi lavori. Siamo sicuri che sia necessario intervenire su questa strada come su altre direttrici della città per tutelare la sicurezza dei cittadini, ma pensiamo che possa essere fatto anche risparmiando questi alberi. Tante le proposte avanzate dalle associazioni nel corso di due ore di dibattito serrato, così sintetizzate da Arena. Abbiamo proposto una petizione, abbiamo lanciato una petizione in cui chiediamo di sospendere le valutazioni, di avviare una controperizia rispetto alla perizia che abbiamo ricevuto, ma è una perizia di parte, è stata fatta sostanzialmente dall'azienda giudicataria dei lavori e chiediamo subito all'amministrazione di procedere anche con il regolamento del verde comunale e con il sistema informativo comunale. Nello specifico il Comitato Pronatura ha ribadito la necessità di aprire in tempi celeri una discussione sul regolamento del verde pubblico con il relativo piano di gestione. Quello che noi abbiamo sempre affermato è che c'è una necessità di discuterne e di organizzare un tavolo verde nel quale vengono chiamate soprattutto le associazioni ambientaliste e i tecnici che possano discuterne, perché non è possibile continuare a trovare dei tagli, ad apprendere che ci sono dei tagli senza che poi ci sia stata una preventiva discussione o comunque una visione del progetto, perché noi eravamo completamente all'oscuro del progetto. Nel corso della recente manifestazione, oltre la simbolica posizione di alcuni nastri al tronco di esemplari che rischiano di essere abbattuti, è stata lanciata una raccolta firme che al momento ha già ottenuto 300 sottoscrizioni per sostenere le proposte di tutela e di salvaguardia del verde pubblico ed impedire appunto la stroncatura degli alberi. Positiva la partecipazione dei cittadini del quartiere, di tanti cittadini bicegliesi e anche di fuori biceglie. Hanno partecipato a questo incontro anche l'assessore alle manutenzioni, l'assessore all'ambiente. Purtroppo le risposte che ci sono state date non ci hanno affatto convinto, sono state negative, perché i lavori proseguiranno secondo quello che ci hanno raccontato. Gli abbiamo chiesto di fermarsi un attimo.